Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti i cosospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà, Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, stretto alla tua mano, ma te la guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà, tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consiglia della mia volontà affinché me la scambi con la mia volontà così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti chiedo in mente attraverso questa meditazione di farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 30, 21 dicembre 1931, come un atto continuato è come giudice ordine sentinella della creatura. Chi sono le depositarie di Gesù, campi e mari divini? Il mio abbandono nel Fiat divino continua. La sua potenza si impone su di me e vuole che io lo riconosca in ogni mio atto come vita dell'atto mio, per poter stendere con la sua potenza i nuovi cieli di bellezza, di amore, per poter riconoscere nell'atto mio l'atto suo che non sa fare cose piccole ma grandi, che devono destare meraviglia a tutto il cielo e poter far gara con tutte le opere sue. Invece se io non lo riconosco, il mio atto non si presta a ricevere la potenza dell'atto della divina volontà. Ed il mio atto resta atto di creatura e la sua potenza resta da parte. Oh volontà divina! Fa che io ti riconosca sempre per poter chiudere nell'atto mio la tua potenzialità operante e glorificante di opere della tua volontà adorabile. Orbene, mentre ciò pensavo, il mio amato Gesù ha fatto la sua breve visitina alla povera anima mia e mi ha detto Figlia mia, il riconoscere ciò che può fare la mia volontà nell'atto della creatura forma l'atto divino in essa. Ed in questo atto, come fondo, la divina volontà vi mette il principio divino. Come si va formando così l'investe della sua immutabilità? In modo che la creatura sentirà nel suo atto un principio divino che non accenna mai a finire. Ed una immutabilità ed una immutabilità che mai si cambia. Sentirà in sé il suono del campanello del suo atto continuato che fa il suo corso continuo. Questo è il segno se l'anima ha ricevuto negli atti suoi il principio divino, la continuazione. Un atto prolisso, dice Dio abitanti in essa negli atti suoi, dice confermazione del bene. Perché è tanto il valore, la grazia, la potenza dell'atto continuato che riempie i piccoli vuoti di intensità d'amore, le piccole debolezze che la natura umana è soggetta. Si può dire che un atto, una virtù continuata, è come il giudice, l'ordine, la sentinella della creatura. Perciò ci tengo tanto che i tuoi atti siano continui perché c'è del mio dentro ed io mi sentirei disonorato. L'atto mio nel tuo. Vedi figlia mia, è tanta la mia foca d'amore che voglio essere riconosciuto in tutto ciò che ho fatto per amore delle creature, ma questo non per altro che per dare. Sento una smania di dare. Voglio formare le depositarie della mia vita, delle mie opere, delle mie pene, delle mie lacrime, di tutto. Ma queste non partono da me se non sono riconosciute. Con il non riconoscerle, le creature mi impediscono il passo di avvicinarmi per deporre in loro ciò che con tanto amore voglio dare. Poi resterebbero senza effetti. Sarebbero come tanti ciechi che non vedono ciò che sta a loro dintorno. Invece il conoscere è vista dell'anima che fa sorgere il desiderio e l'amore e quindi la gratitudine verso di me che tanto voglio dare. E con gelosia le anime custodiscono il mio tesoro depositato in loro e nelle circostanze se ne servono della mia vita per guida, delle mie opere per confermare le opere loro, delle mie pene per sostegno delle pene di esse e delle mie lacrime per lavarsi se sono macchiate. Ed o come sono contento che si servano di me, delle opere mie per aiutarsi. Fu questo il mio scopo di venire sulla terra, per restare come fratellino in mezzo a loro e dentro di loro per aiuto nei loro bisogni. Come mi riconoscono? Io non faccio altro che riflettere in loro per suggellare il bene che hanno conosciuto. Quasi come sole che con riflettere con la sua luce sulle piante, sui fiori, comunica la sostanza della dolcezza dei colori. Non apparentemente, ma in realtà. Onde se vuoi molto ricevere, cerca di conoscere ciò che fece la mia volontà nella creazione e ciò che fece nella redenzione e io ti sarò largo e nulla ti negherò di ciò che ti faccio conoscere. Anzi, sappi che se non mi arresto ancora a farti da maestro per farti conoscere tante altre cose che mi appartengono è perché voglio darti ancora ciò che ti faccio conoscere. Non resterai contento se non avessi che dare sempre cose nuove da dare alla figlia mia. Perciò aspetto con ansia che metti a posto nell'anima tua ciò che hai conosciuto, affinché la ritenga come cosa tua e mentre la metti a posto, per darti aiuto a metterla, ti vado carezzando, plasmando, fortificandoti, allargo la tua capacità e insomma rinnovo ciò che feci nella creazione della prima creatura. Molto più che essendo cose mie che tu hai conosciuto e che voglio deporre in te, non voglio fidarmi di nessuno, neppure di te. Voglio io proprio con le mie stesse mani creatrici preparare il posto e deporle in te e tenerle al sicuro circondandole col mio amore, con la mia fortezza e per guardia la mia luce. Quindi sia attenta, non ti far sfuggire nulla e così mi darai il tempo di poterti fare le più belle sorprese. Dopo ciò la mia piccola anima, la mia piccola intelligenza continuava a valicare il mare interminabile della divina volontà, del mio sommo bene assoggiunto. Figlia mia, noi abbiamo campi e mari divini interminabili, questi sono pieni di gioia, di beatitudine, di bellezza incantevole di ogni specie e posseggono la virtù di far sorgere sempre nuove gioie e sempre nuove bellezze e che una non somiglia all'altra. Ma però in questi nostri mari e campi divini, per quante ci sono cose e beatitudini innumerevoli, non abbiamo vite che palpitano, mentre siamo noi vite e palpito di tutto, anche delle nostre gioie. Ci manca il palpito della creatura che palpita nel nostro e come vita questi palpiti ti riempiano questi nostri campi e mari interminabili. Ora tu vuoi sapere che ci porta la sua vita, non una cosa nuova, ce ne abbiamo tante. Chi viene a vivere nella nostra volontà perché essa stralipando da noi ci forma i nostri campi e mari divini, pieni di tutte le felicità, possibili e immaginabili. E la creatura viene in essi come vita ed abbiamo il gran contento e la grande gloria che ci può dare una vita. E sebbene questa vita è uscita da noi, però è libera di stare o non stare nei nostri campi divini. Ed essa perde, sacrifica la sua libertà umana e nella nostra volontà prende la libertà divina e come vita vive nei nostri campi e mari senza confini. Ed o com'è bello vedere questa vita che si fa in largo in mezzo alle strette folle delle nostre felicità e gioie, vi getta il suo seme, il suo picco di grano, immagine della sua volontà che vi forma la sua spiga tanto alta, ma come realtà e non come apparente della vita palpitante ed operante nel nostro campo celeste. Oppure come pesciolino nuota nel nostro mare, vive e si nutre, si trastulla, si fa mille scherzi e ricrea non come gioia, ma come vita al suo creatore. C'è gran differenza tra quello che ci possono dare le nostre gioie e quello che si può dare una vita. Ecco perciò possiamo dire che i nostri campi sono deserti, i nostri mari sono senza pesci, perché manca la vita delle creature per riempirceli, per poter dare e ricevere vita per vita, ma verrà il tempo in cui saranno pieni ed avremo il pieno contento e la grande gloria che in mezzo alle nostre folte e gioie avremo moltitudine di vita, vivranno dentro questi campi e ci daranno vita per vita. Ora tu devi sapere che questi nostri campi e mari sono a disposizione di quelli che vivono in terra e che vogliono fare vita nella nostra divina volontà. Non per quelli che vivono in cielo, perché quelli non possono aggiungere neppure una virgola di più di quello che hanno fatto. Questi sono la vita caudente nei nostri campi divini, non la vita operante. Si può dire di loro che quello che hanno fatto è fatto, invece sono le vite operanti e conquistatrici della terra che sospiriamo, che mentre stanno in terra entrano in questi nostri campi ed operano e fanno da conquistatrici in modo divino. Molto più che da quando l'uomo peccò, uscì da dentro la nostra volontà e gli furono con giustizia chiuse le porte di questi nostri campi. Ora vogliamo aprirle queste nostre porte dopo tanti secoli a chi vuole entrare, non forzarle, ma liberamente per farci popolare questi campi divini, per dare una nuova forma, un nuovo modo di vita alla creatura, un modo di vita tutto nuovo e poter ricevere non opere da essa, ma in ogni suo atto, vita formata nella stessa vita nostra. Ecco perciò la causa del tanto mio dire sulla mia volontà, la forza della mia parola creatrice li disporrà, darà loro il desiderio, muterà la volontà umana e conoscendo che voglio aprire le porte busseranno ed io subito aprirò loro, affinché resti io stesso appagato ed abbia il mio popolo fortunato che mi dirà al cambio della mia vita che ho dato per essi, che mi darà al cambio della mia vita che ho dato per essi, la loro vita è in cambio della mia. Mai ho parlato senza avere nulla o in vano, parlai nella creazione e la mia parola serviva per formare le cose mirabili di tutto l'universo, parlai nella redenzione e la mia parola, il mio Vangelo serve di guida alla mia Chiesa, di luce, di sostegno, si può dire che la mia parola è la sostanza e la mia vita palpitante nel grembo della Chiesa. Ora se ho parlato e parlo ancora sulla mia divina volontà non sarà in vano, no, ma avrò i mirabili effetti e la vita della mia volontà conosciuto, operante e palpitante in mezzo alle creature. Quindi lasciami fare ed io disporrò in modo le cose che la mia parola non sarà parola morta ma viva, che darà vita con tutti i suoi mirabili effetti. Molto più che questi nostri campi e mari celesti fanno da madre alle anime fortunate che vogliono vivere in essi, li educheranno in modo divino, li nutriranno con cibi predibati presi dalla mensa celeste, li cresceranno in modo nobile e santo che in tutti i loro atti, passi e parole si vedrà a chiare note scritto, sono simili al loro creatore. Dio sentirà la melodia della sua voce nella parola di esse, la potenza sua nelle loro opere, il suo dolce moto nei passi che corre presso di tutti, che li vuole a sé nei passi loro. E come è rapito dirà chi è che mi somiglia? Chi sa imitare la mia voce dolce, armoniosa e forte da poter scuotere cielo e terra? Chi tiene tanta forza da rapirmi nelle sue opere per farmi operare insieme con lei? Chi è? Chi è? Ah, è chi vive nei nostri campi divini. È giusto che ci somigli in tutto, per quanto a creatura è possibile. La figlia nostra e basta. Lasciamola che ci imiti, che ci somigli, sarà la gloria nostra, della nostra opera creatrice, la sospirata del suo Padre Celeste. Queste anime formeranno la nuova gerarchia nella Padre Celeste, dove c'è un posto riservato per loro che a nessun altro è dato di occupare. quasi 15 minuti per leggere questo brano, amici cari, ma ci avrebbero 15 ore per meditarlo adeguatamente. È chiaro che, come sempre, chiediamo al Signore che ci aiuti un po'. Perché oggi il Signore è veramente in maniera, peraltro anche abbastanza estesa, il nostro grande Dio Gesù esagera un po', nel senso che con un linguaggio peraltro molto incisivo ci parla, ci porta dentro questo mondo, ce lo fa rappresentare, ci dà anche delle coordinate, dei criteri per continuare il nostro quotidiano, diciamo così, anche test su noi stessi per vedere a che punto stiamo. La prima cosa ha una cosa importantissima, Gesù la chiama la continuazione. La continuazione è la parafrasi della grandissima virtù, della costanza. Non c'è niente in questa vita terrena che si possa fare se manca questa virtù. Ma proprio niente. la continuazione, quindi questa, la vita nella divina volontà, è una presenza stabile, non è un qualche cosa che va avanti come la luce dell'albero di Natale, intermittenza. È una situazione costante, che evidentemente è un po' come la grazia santificante, è un po' come le virtù. La grazia santificante è fondamentalmente un abito, come dice Santo Maso, così come le virtù. Abiti, per capire cosa sono, ci ho fatto un ciclo di catechesi, è quello che abbiamo addosso. L'abito non è che io durante la giornata ce l'ho 5 minuti, 5 minuti e vado nudo. Ho l'abito che lo metto la mattina e me lo tolgo la sera, quindi mi resta addosso per tutto il giorno. Quell'abito mi accompagna in tutto quello che faccio e quell'abito peraltro dice molto di chi io sono, perché come ci vestiamo dice molto di chi noi siamo e anche di chi vogliamo essere. Moltissimo. Ci piaccia o non ci piaccia, amici cari, non voglio entrare troppo in questo tempo se non ci prendo tutta la meditazione, però le nostre reazioni esteriori ci descrivono. Basta questo per ora. Ecco, poi il Signore ricomincia a dire quelle cose bellissime, dice io voglio dare, io voglio dare, io voglio dare, io voglio dare, ma tutte le cose che voglio dare non partono da me se non sono riconosciute. Perché il conoscere, dice Gesù, è la vista dell'anima e il conoscere va a sorgere il desiderio e l'amore e quindi la gratitudine verso di me che tanto voglio dare e quindi con gelosia custodiscono il mio tesoro depositato in loro. Il conoscere, il conoscere, il conoscere, il conoscere, il conoscere, il conoscere. Perché dal conoscere parte il desiderio e parte quindi l'amore. Oggi il Signore ha, come dire, dato delle belle conoscenze, veramente delle cose veramente belle. Nella seconda parte quando parla dei campi e dei mari divini interminabili, io qui dobbiamo di nuovo perderci. Allora, facciamo sempre un po' di pubblicità degli altri cicli di catechichesi. Se si legge il libro di Tenera Amata, se si vedranno, quando vedremo nei Novissimi, per esempio, il Paradiso, possiamo conoscere qualcosa del Paradiso, non mi descrivere un po' che cos'è la gloria essenziale. Con un linguaggio certamente che è molto riduttivo, non coglie che una infinitesimale parte di quello che ci aspetta. Però qualcosa lo coglie. La vita nella divina volontà non si ripeterà mai abbastanza. È il Paradiso sulla Terra. Dice Gesù, queste cose non sono per quelli che vivono in cielo, perché quelli già ce l'hanno. Stanno già in un'altra dimensione. Queste delizie, questi tesori, queste gioie, queste beatitudini, questa è la vita. Io le voglio dare già a chi sta sulla Terra, non semplicemente dopo, quando verrà in cielo. E non perché non ci sia niente da fare, perché l'anima vive in ozio e non la beatitudine anticipata. No, ma perché opereranno in questi campi divini. Le opere che faranno saranno strepitose, perché non saranno semplici opere, ma saranno fiotti di vita, come dire, sgorganti ininterrottamente, a gloria infinita di Dio e a beneficio infinito di se stessi e di tutte le anime. È bene ascoltare il Signore. Dice i miei campi e i mari divini sono per noi, non dobbiamo aspettare il Paradiso, non dobbiamo aspettare le celesti praterie. Le celesti praterie sono sulla Terra, come le chiamavano i pagani, le celesti praterie. Ci stanno in cielo le celesti praterie, ma qui Gesù parla di campi e di mari divini, qui, sulla Terra. E sono interminabili. E veramente c'è qualcosa di simile al Paradiso, perché sapete che significa un Paradiso? Gioie, beatitudini, bellezze incantevoli di ogni specie. Attenzione, c'hanno la virtù di far sorgere gioie, sempre nuove bellezze che una non somiglia all'altra. Ma ci rendiamo conto di che significa questa roba qua. Cioè, uno dovrebbe veramente lasciare perdere tutto. Ma chi di noi non vorrebbe, come dire, che dice, mazzo, la mattina, ma vediamo oggi che altro si inventa il nostro Signore. Vediamo un po'. Che ci sarà oggi? Che si inventerà? È così, eh? perché la divina volontà ci porta proprio nell'essenza profonda di Dio. Dio di per sé vorrebbe soltanto che dare pienezza di gioia e di felicità tutto e a tutti. Il motivo per cui questo non accade in questo mondo e non accadrà neanche per le anime dannate, per esempio, ma non è perché Dio non vuole, ma è perché la persona lo rifiuta, lo respinge, non lo accoglie. In questi nostri mari e campi divini, dice Gesù, per quante ci sono cose e beatitudine numerose, non abbiamo vite che palpitano. E ce le teniamo per noi, cioè per carità, pazienza. Ma noi vorremmo averci qui dentro vite che palpitano. E chi è che si metterà dentro questi mari divini e dentro questi campi divini? Veramente, se passi il termine, a godere è anche sulla terra. Non senza croci, non senza tribolazioni, non senza il combattimento, questo è chiaro questo qui, no? Questo non ci può essere tutto, come dire, tolto in questa vita, altrimenti veramente saremo già in paradiso celeste, no? Però questi sono fatti reali. Adesso continueremo, Gesù dice delle cose veramente impressionanti, no? Dice che chi viene a vivere nella nostra volontà, che cosa succede? Succede che essa, stralivando da noi, forma questi campi e mari divini? Che cosa sono? Sono pieni di tutte le felicità possibili e immaginabili. Che cosa vuoi? Le scoprirai, sempre nuove sorprese, sempre nuove delizie, sempre nuovi diletti, sempre nuove gioie. Pur facendo sempre le stesse cose, attenzione, cioè la nostra vita, anche la mia, come dire, è abbastanza, se vogliamo, rutinaria, no? Certo, non c'è mai un giorno o l'altro, però, diciamo, le cose sono fondamentalmente simili a quelle che facciamo un giorno o un altro, a seconda del tipo di vita che abbiamo, generalmente, no? È possibile che dentro questa cosa, per esempio, la noia della monotonia, uno non sappia neanche che cosa sia del tran tran, cioè, rimanga una vita meravigliosissima, stupenda, favolosa, meravigliosa, sempre nuova, certo che è. E che cosa facciamo noi dentro questi mari divini? Sentiamo che dice qua Gesù. Allora, prima fa l'immagine del campo e poi del mare, no? Dice che cosa succede? Questa vita, che è la mia vita, la tua vita, che è uscita da Dio e che si reimmette nella sua origine, che cosa fa? Si fa largo in mezzo alle strette folle delle nostre felicità e gioie e vi getta pure il suo seme, il suo chicco di grano, immagine della sua volontà buttata qui dentro e forma la sua spiga, ma tanto alta come realtà, non come apparenza, alta di vita palpitante e operante nel nostro campo celeste. Ancora, passiamo al pesciolino, ciò pure come pesciolino, simbolo pure della sua volontà che è come vita palpita, la nostra volontà è anche vita palpitante, il nostro Signore la vuole. E per farci cosa? Per nuotare nel nostro mare, come un pesciolino, no? E che cosa fa dentro il mare? Quello che fanno i pesciolini. Vive, nutre, ecco un termine tipico di questi scritti, si trastulla, i trastulli. Qualcuno non gli piace una vita fatta di trastulli? Ancora gli fa mille scherzi e ricrea, attenzione, il suo creatore. Au, fa fare ricreazione al Padre Eterno. Io non mi azzarderei mai a dire una cosa di questo genere, ma se l'italiano ha un significato e ricrea, non come gioia, ma come vita il suo creatore, sto leggendo, sto citando. Cioè uno scherza, si può scherzare con l'Altissimo, ha voglia che si può scherzare, si può giocare con l'Altissimo, ma lui si diverte un sacco, ha voglia che si può giocare. Io non mi sarei mai azzardato a dire, ma neanche lontanamente, proprio, cioè avrei pensato quasi di rasentare la blasfemia se non avessi visto questi scritti e non mi fossi affacciato in questo mondo. È la verità, è vero, è così. Insomma, è tanta roba, no? Trastullarsi, fare mille scherzi. Poi se uno è un animo, come dire, un po' giocondo e giocherellone, io lo sono un po', per esempio, a me piace molto scherzare. E se ci facciamo caso noi scherziamo, eh qui c'è il mio caro Cardinale Petrocchi che ci raccontava sempre queste cose, no? Anche con noi seminaristi, con noi giovani preti, delle giornate era, come dire, era una gag continua, uno scherzo continuo, bello però, divertente. E lui diceva sempre, io scherzo solo con le persone a cui voglio bene. Il segno che con una persona comincia a esserci con un rapporto di bello, di affetto, è che ci scherzo un po'. Ma questo lo sappiamo anche tra noi esseri umani, no? E sono scherzi belli e chiaramente, oh mi raccomando, eh, allo scherzo bisogna sempre starci. Poi quando, insomma, il termine di riferimento è l'altissimo, cerchiamo di starci agli scherzi, eh, quindi, ecco. Vabbè. Allora poi però Gesù la mente dice, ma ecco, tutta questa roba di cui sto parlando, i nostri campi sono deserti, i nostri mari sono senza pesci, che ce famo? Perché manca la vita delle creature per riempirceli, ma, dice Gesù, ma verrà il tempo che saranno pieni. E qui bisogna cominciare a farsi una passeggiata, amici miei, eh, dentro queste celesti praterie, questi campi divini e questi mari divini. Io suggerisco, insomma, di farci una passeggiatina, di cominciare a fare, come esplorazione. Ma non è finito qui, ci stanno ancora altre tre pagine da militare, ci abbiamo soltanto cinque minuti. Questi sono a disposizione, questi campi e mari, di quelli che vivono in terra e che vogliono fare vita nella nostra volontà divina. E Gesù specifica, non sono per quelli che vivono in cielo, questi. Loro ce ne hanno altri, perché quelli non possono aggiungere neppure una virgola di quello che hanno fatto. Attenzione, e qui, capite, ci fa anche comprendere come non solo queste sono delizie anticipate, ma sono delizie anticipate meritorie, perché dice che quelli del paradiso, non hanno la vita operante, ma hanno la vita gaudente. Cioè, quello che hanno fatto, hanno fatto, dice Gesù. Ma invece quelli che vivono dentro questi campi sono vite operanti e conquistatrici. E mentre stanno in terra, entrano in questi campi e operano e fanno conquistatrici in modo divino. Questo è quello che faceva la Madonna in continuazione. La Madonna aveva instaurato un tipo, ma bisogna leggersi la reggine Maria della Dina Volontà, insomma. Che ci corregge un pochino il tiro anche sull'immagine che abbiamo della Madonna. Forse a volte abbiamo un pochino un'immagine un po', come dire, da statuetta devota, da nicchia. Per carità, la Madonna è anche questo, quindi è la tutta pura, la tutta santa, la degna di ogni riverenza, di ogni rispetto, di ogni venerazione, per carità di Dio, no? Ma noi dobbiamo anche vederla come creatura, come anima, come persona, come interlocutrice dell'Altissimo e come con lei che stava in continuazione, in attività perenne, continua. Cioè, lei sorprendeva l'Altissimo in ogni momento, l'ora viva, lo faceva, lo faceva contento, gli faceva stare a buzzare gli occhi, diceva, ma guarda questa che altro si è inventato per manifestarmi il mio amore, che ha fatto, che non ha fatto. Si percepiscono queste cose qui da quel testo. Se mi sbaglio, diceva Giovanni Paolo II, il nostro Signore quando andrò dall'altra parte mi corrigerà e mi dirà, ma che dici? E io farò i miei dieci minuti di vergogna, per carità, però a me queste cose sembra di averle chiaramente percepite. E attenzione, ora vogliamo aprire queste porte, ma in queste porte si entra parola d'ordine, parola d'ordine, liberamente, non forzatamente. Parola d'ordine di Dio, parola d'ordine di Dio, libertas, sempre. E attenzione a che cosa servirà la popolazione? Qui si tratta per dare alla creatura un nuovo, una nuova forma, un modo di vita tutto nuovo. Non è diventare un po' più buoni e fare un pochino di atti di virtù in più, c'è sta anche questo, se sicuramente si diventa più buone si fanno un po' di atti di virtù in più, per carità, ma è poco. Qui c'è un modo di vita nuovo, inedito, inaspettato. Per questo che ne sto parlando così tanto. La forza della mia parola, dice, li disporrà, darà loro il desiderio, muterà la volontà umana e conoscendo che voglio aprire le porte busseranno ed io aprirò subito, dice Gesù, perché io sarò contentissimo, perché io sarò appagato, perché vedrò finalmente qualcuno che si gode i miei beni, detto in due parole, se no che ce faccio? Cioè, per carità, me li godo io, non è che non ce fa niente, però io vorrei che li godessero anche altri, è l'unico motivo per cui Dio ha creato, semplicemente per rendere partecipi altri, della sua felicità. Lui non c'è bisogno di niente e di nessuno. E allora che cosa altro succede? Le ultime cose, questi campi e questi mari, che cosa faranno? Educheranno le anime in modo divino, cambiano i connotati, cambiano i tratti, li nutriranno con cibi prelibati presi dalla mensa celeste, li cresceranno in modo nobile e santo, pensiamo durante queste cose, no? L'educazione anche, no? Quanto è importante il tratto, la nobiltà e la santità dei modi, no? Non abbassarsi mai a stili, a forme proprio grossolane, grezze o addirittura cafonische, no? Non esiste questo qui per un'anima che vive in questo modo, in modo che tutti i loro atti, passi e parole si vedrà, si vedrà, attenzione, si vedrà. A chiara nota è scritto, sono simili al loro creatore, ritorna la somiglianza divina, cioè io vedo quella creatura e non dico proprio come Gesù, dice chi ha visto me ha visto il Padre, ma insomma qualcosa del genere, non nel senso forte del termine, no? Perché Gesù quando dice chi ha visto me ha visto il Padre parla dell'identità, cioè che lui è vero Dio come il Padre è vero Dio, no? Qui ci sta una somiglianza, ma una somiglianza vera però. E Dio stesso sentirà la melodia della sua voce nella parola di esse, la potenza sua nelle loro opere, il suo dolce modo nei passi che questi fanno. E dice che è stupito, dirà, senti un po', ma chi è che mi somiglia? Chi sai mi dare la mia voce dolce, armoniosa, da scuotere il cielo alla terra? Chi tiene tanta forza ad aprirmi nelle sue opere e mi fa operare con lei? Ma chi è? Madonna anzitutto, no? Chi vive nei nostri campi divini? E attenzione a come concludo, questi anni formeranno la nuova gerarchia nella loro Patria Celeste, dove c'è un posto riservato per loro che a nessun altro è dato di occupare. Questo ricordiamocelo bene, non ci sarà nessuno, ma neanche i grandi i santi che ci siano mai stati, i più strepitosi, non arrivano a questi livelli, ma non perché uno è più grande di loro per quanto riguarda le virtù, cioè io penso a semplici, mi sembra assurda una cosa del genere se la penso paragonandomi, no? Io non sarò mai, sono proprio sicuro, varrò per cento per cento, proprio nessuno mi dica l'altro perché non è così, io non sarò mai neanche degno neanche di nominarlo a padre Pio, a un padre Pio o a un santo curato d'Arz. E è così e nessuno pensi che non è così perché è così. E se dovessi vivere nella divina volontà che va a succedere? Una roba del genere? È certo che va a succedere, ma non certamente per me, d'accordo? Ma perché tu ti immetti in un mondo che è il mondo di Dio, cioè standoci non semplicemente obbedendo ai decreti che ti ha fatto conoscere come hanno fatto i grandi santi ed anche quindi praticando tutte quante le virtù in grado eroiche. Attenzione, non è che chi entra in questo mondo è un peccatore o non pratica perché le virtù comunque bisogna viverle e praticarle e la nostra tensione anche verso l'eroismo delle virtù, come dire, presupposta, ci sta, però è qualche cosa che va oltre. E con la sua solita maestrina, questo signore oggi ci ha dato qualche altra dritta per comprendere un po' meglio e soprattutto per desiderare un po' di più e per disporci un po' di più perché queste sono cose che sono state dette e date per essere vissute, non perché oh che bella meditazione, buonanotte e queste rimangono qui dove stanno, no? Ecco, no, che possiamo tutti disporci per viverle. Grazie. 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 Un grazie infinito anche oggi signore Gesù per tutte quante le bellissime comunicazioni che anche oggi ci hai donato, già tanto abbiamo detto, non ci resta che da chiederti con tutto il cuore di aiutarci a muovere i passi per entrare in questo regno, in queste ceresti praterie, in questi mari divini, dove ci attende l'anticipazione del paradiso, pure in mezzo alle prove, alle tribolazioni, per carità, questo è sempre meglio ripeterlo perché non accada che nessuno di noi ci faccia idee astruse, però è veramente tanta roba e merita che facciamo il possibile, tutto quello che riusciamo per poterla vivere. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque, nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Fiat Ave Maria. Grazie. Grazie. Grazie.